Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Kidman Bene, affrontiamo il nostro, diciamo, amico nemico e vediamo come va Un sacco di combo da panico quindi dovevi fare parecchio malo Guardateli che roba, sono tante le botte che gli avevano dato, eh? Scusi signor amico però Grazie grazie Paperino, mi hai salvato la vita Ci ha fatto un danno politico, eh? Basta! Ok AP Mi hai salvato AP Quindi possiamo riprendere la cosa Il coso Della cosa Oh E se ne va via Fantastico Trio bianco Oh si, io l'ho dato a tutti i santi Oh, bene Adesso possiamo fare Volevo fare qualcosa e mi sono assolutamente dimenticato cosa Ah, ok, abilité Scivolata Che ne abbiamo presi due addirittura Attiva E siamo a posto Bene Abbiamo il trio bianco Che era all'inizio se non ricordo malo Vediamo un po' Era indietro Di tanto Questi finalmente possiamo ammazzarli Vediamo che effetto fa Oh Che cosa che ho detto Perfetto Scivolata Lo fai? Oh, ma voi siete grossi Guarda qui Guarda qui Ah Questa poi non la sapevo Oh salve Siete venuti giù voi Avete uno scudo molto più potente Lo sa Ok I miei pantoni sono arrivati questi Porca miseria Ci ha dato parecchio, eh? Allora vedete che questo Non si può fare niente Qui adesso noi prendiamo questa Però mi sta proprio antipatica La cosa che Non possiamo fare nulla Vediamo un po' Questa l'avevamo già mutata Eeeh Dobbiamo andare Oh scusi Non ho vinta Va La scivolata Ce l'abbiamo? Sì, ok Ok Adesso ci arrivo, eh Così un attimo Andrei prendere un attimo Una schiena Lo so che fa malo, eh Insomma Facciamo quello che possiamo Il signor Donald Huckle è un po' Ammaccato, sa Allora Andiamo a prendere tutti io De Janeiro Che voglio vedere un po' cosa fa Questa cosa bianca Ci darà qualcosa di buono, insomma Era di sotto mi sembra Eh Scendi grazie Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Vediamo un po' Ottimo Io Vi chiedo Trio con vari dati Li abbiamo tutti Quindi abbiamo anche il giallo Che possiamo fare Quello della torretta Della torretta Della torre del mago Che torretta Devo ricordarmi Che mi sono dimenticato Ok Possiamo salire Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Di là scendiamo Di qua andiamo avanti Ok E di là non lo so proprio come ci si arrivi Forse ho capito Forse eh Non è che ne sia tanto sicuro Questo Ci si arriva in qualche modo Esatto Quindi devo semplicemente aspettare Che arrivi E provare a prenderlo Credo sia così Però da così Non ci arrivo Oh ma lì c'è qualcosa C'è tanta 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 roba Dove vai? Interessante Ho perso Porca vacca Eh non ci sono arrivato però Fatemi vedere se la strada Da percorrere è un'altra Magari qui è più alto Può essere Qui riesco ad arrivarci? No Però forse qua effettivamente Potrebbe essere più alto Ci deve essere un metodo che io non so Per arrivarci Probabilmente Probabilmente sì Però non è qui Perché qui veramente non riesco a salirci È un vero peccato E qui ci alterniamo indietro Andiamo di sotto Niente Adesso non lo so Quindi andrei Ok Poi speriamo di trovare una soluzione a questo Dilemma Allora quante strade ci sono Vediamo cosa si può rompere e cosa no Vasi Beh Eh E vita Non vedendo che ci sia solo quella Però Magari c'è anche qualcos'altro Qui si può salire? Sì che si può salire Eh insomma non avrebbe avuto senso Perché c'ho le scale eh Per carità Tante tante porte Vedete che c'è qualcos'altro Eh infatti Mi sembrava strano che ci fosse solo quello Dai Sarebbe stata una cretinata Non lo so Sono un po' interetto Non so dove andare Scusatemi So che sono una palla Avete ragione Cos'è questo? Non so cosa sia Ah ok Ah ho capito Perfetto Deve trovare vari volumi Per aprire poi Le rispettive Diversi Spazi Vediamo un po' Qui non c'è niente Questa è sottoscala Qui Oh È casuale A quanto pare si Sì È desidero Per carità eh Non è che mi dispiaccia Quindi dove siamo venuti Qui con le rispostate Ok Sicuramente da sopra ci sarà qualcosa Vediamo un po' Esatto Qui c'è Guarda che qui c'è un libro Staccati C'è un libro che vuoi prendere Non lo fa prendere Ci deve essere un trio Esatto un trio Ok Perfetto A meno così capiamo Se no Insomma È stato un bel casino Un putto save Siero dati santi Perfetto Vorrei andare a vedere Aldo che la barca è un bianco Me lo ricordo lì Cosa c'è Però insomma È qui l'altra cosa Se guardassi la guida Sarebbe meglio Non so se sono io che devo fermare O si ferma lui in automatico da qualche parte Probabilmente sono io Ok ero io A posto Mega posione Poi Andiamo proprio alla grande eh Mega posione Io qua ci andrei Perfetto Oh ma lì c'è qualcosa Andiamo Vai Tutte cose molto utili se devo essere sincero Andiamo un po' Ah scusate non guardavo Non è facile stavolta eh Ce l'ho vicino però eh Ce l'ho quasi Porca miseria Non sono visto premio in tempo Ok ce l'ho fatta Api Oh questa sì che è un'ottima cosa Ok oggetti Scorta Api Utilizza Sora Ottimo Adesso di api ne abbiamo due Che cazzo faccio Sora Due Carciasonico La roba che utilizza La roba che utilizza La roba che mi interessa C'è uno a posto in teoria A posto sì La prossima unità che abbiamo la possiamo Tranquillamente prendere Questa non so perché sia così Allora il giallo Abbiamo un posto giallo Questa è strano Infatti Ok Io ho preso un giallo Comunque Dove può andare un verde? Qui ci va il giallo Sicuro Può mancare qualche libro Allora c'è qualcosa Che non mi quadra Se trovo il posto giusto Io ho aperti tutti sti cosi Sì Allora Qui ci va il giallo Ok E qui abbiamo chiuso Qui il rosso non ci va Qui ci va il verde Ah prendi No io non voglio prenderlo Voglio metterlo Perché sicuramente servirà Lì E qui ci va il blu Però non l'ho trovato E non è un problema E io non posso salire E come cacchio faccio adesso Questo lo voglio togliere Perché non è il suo Ok E qui ci va il suo Perfetto Ottimo Il problema è qui il verde Non ne abbiamo un altro Dobbiamo trovare un verde Chissà come lo trovo adesso Il tuo verde Ok Qui c'è un libro E non me lo fa prendere Ok Il tuo numero 6 Giallo Il giallo abbiamo detto che era qua Oh ma qui c'è un altro libro Perfetto Cavolo l'ho proprio visto Ceccato Come proprio un topo Ceccatone sono Vediamo un po' Qui c'è Gialli L'ho trovato Giusto Gialli Eppure sono sicuro Che il giallo Ora fosse qua Vediamo cosa dice qua Niente Siamo sicuri Che questa è l'unica biblioteca Che c'è Perché Mi sembra così strano Neanche un giallo Forse di sopra Sono sicuro di averlo visto Adesso mi sfugge Ma Esatto Qui Ok Qui dobbiamo togliere questo E vediamo se riusciamo a mettere Niente Ok E questo è già un passo avanti Perché Abbiamo trovato già qualcosa Qui il giallo Esatto Vedete che Li avevo visti E che non mi ricordavo proprio Ok C'è qualcosa Ah perché la porta era chiusa Pensate Io proprio Non lo sapevo Assoluta Mount Ok E la porta di lì Dove siamo venuti Presumo Quindi noi Gli altri libri Che vi hanno trovato Fate che ci manca un verde No Le voglio risolvere Tutti gli enigmi Perché sono interessanti Fatemi vedere Va Questo Perfetto E il viola Ottimo Scusate Ho variato E questo è il viola Vedete che ce la facciamo Prima o poi Non vi preoccupate C'è solo da girare un attico Quindi qua si sale Allora che si saliva Per far prima Quindi qua Mi sono già perso Mi sono già perso Porca miserica Ok qui non c'è niente da mettere Qui non c'è niente da mettere Qui non c'è niente da mettere Tutto di sopra Vabbè Tutto di sopra andiamo Vediamo che succede Ormai ci siamo Valiamo Insomma Qui non c'è niente Qui non c'è niente Qui non c'è niente Qui non c'è niente Allora Io avevo tolto Spostato la libreria Che ce n'è dietro un'altra Qua Esatto Hola Passaggio segreto Oh cavoli Oh porca miserica E dove cazzo non lo sono Ehm Vabbè mi sembra tutto giusto Ok Capire dove siamo Sarebbe bello Sto posto è molto verticalo Quindi sarà un bel casino Trovare tutti i posti Per arrivare Dove dobbiamo arrivare E sapere quali Non ne abbiamo fatto Perché ci sono tanti scrigni Un bel casino Ok Abbiamo fatto un giro Incredibile Non so dove andare E quindi Vediamo un po' Dove andare Ah ah Cioè Tu mi hai fatto Mi hai fatto fino a qua Che ci hai messo Tre quarti d'ora E in più Non posso neanche fare un cazzo Mi sembra tanto giusto E qui c'è qualcosa Però C'è qualcosa che mi sfugge C'è qualcosa che mi sfugge Come posso Non mi fa aggrappare Vabbè Ah Poi forte devo prendere E' un bel cazzo di casino però Chissà cosa dobbiamo fare Per riuscire a far tutto Quindi ho sbloccato questa porta Per non fare un cazzo Probabilmente si sbloccherà più avanti Il passaggio Devo fare altre cose prima Quindi dobbiamo tornare anche indietro Questa storia Ok Perfetto Eh vabbè Quindi è inutile stare a cerciare Andiamo pure qua Andiamo nella porta Tanto l'abbiamo fatto Se andiamo va Che è meglio Ha fatto un sacco di cose Perché ce la puoi fare Dove Ok Andiamo nella porta aperta E speriamo di trovare qualcosa di diverso A me ho da andare avanti Ok Cos'è La candela è spesa Beh se è solo quello il problema La cediamo Ed è accesa Se è solo quello il problema Non è un problema Una volta si rompevano Cosa vuole questo Oh potente Oh potente Mostra la tua forza Che cazzo vuol dire Mostra la tua forza Non ne ho proprio idea Di cosa significhi Ah Tutto qua Interessante Questo è stato molto interessante Quindi facciamo così Spero che queste cose Vogliano un po' cosa Perché se no Non lo saprei proprio Vai Anche vi stiamo facendo usare Un sacco di magia Ok E effettivamente qualcosa È servito Vi è inciso Perfetto Emblema ottenuto Vediamo l'ultima volta Cosa c'è qui Perché non mi ha capito Io rosso Oh Interessante Non c'è nient'altro Che possa prendere Vero Proviamo a scendere E prendere tutti i vari cosi Questo qui è l'altro Emblema E questo è l'altro Emblema Adesso lo so Se ne manchi uno E soprattutto Che cazzo ho preso Allora Oggetti Scorta Emblema Un petto Di stelle L'ho trovato C'è un posto Stemma Ah È un posto Con uno stemma Simile a qualche parte Quindi vanno infilati Da qualche parte Ho capito Però dove Non ho Idea Proseguiamo Anche ci salutiamo Che è meglio Così almeno Siamo a posto Che sia qui Vediamo un po' Sì E sono tutti e tre No Ce ne vuole un altro Ce ne vuole un altro Quindi qui c'è Qualcosa altro Che Un altro enigma Che non ho risolto Quale sarà mai Infatti è che Era pieno di sopra Io Sono sceso E quindi Le ho fatto un cazzo A me che c'era Un'altra porta Giusto No Non c'era Un'altra porta No Era questa L'unica Devo cercare In biblioteca Sono sicuro Di aver risolto Tutti gli enigmi Quindi Dove Sarà Non lo so Cercherò Adesso andiamo a salvare E ci salutiamo Poi nel prossimo episodio Cercherò di capire Esplorare Un altro po' Che se no Possiamo andare avanti Molto semplicemente Questi tubi qua Che non mi Non mi Tornano bene i conti E che non sono cliccabili Non lo so Vabbè Vedremo Quindi ragazzi Come sono Ti vi do Lascia un like Come ti si piace La serie Di farmi sapere Cosa ne piacate Adesso Vi saluto La sciva Ciao Ciao